Canti e musiche per donne in pirantello, azione scenica svolta sistemale nella sala conferenza della biblioteca regionale intitolata Al Genio Agrigentino, in occasione del 73esimo anniversario della morte di Luigi Pirantello ed indirizzata alle quinte classi di alcune scuole medie e superiori di Agrigento. Abbiamo voluto proprio ricordare il famoso drammaturgo Agrigentino attraverso la rappresentazione di un'azione scenica, donne in pirantello nella parte proprio antimeridiana, rivolta alle scuole superiori di Agrigento, il liceo scientifico Leonardo Maiorano, il liceo classico Empedocle, l'ITC Foderà e Sciaccia. Ma gli eventi culturali alla biblioteca regionale non finiscono qui, con l'inaugurazione della mostra dal titolo Penne, Pennini e Calamai dall'Ottocento al Novecento e a seguire la presentazione del libro Racamuto Storie, Arte e Cultura di Enzo Sardo.